voglio dirti che ti meriti che le cose vadano meglio ti meriti di amarti incondizionatamente e ti meriti di essere amato incondizionatamente ciao, grazie di essere qui, 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 come oggi oggi, in questo video voglio farti stare meglio, voglio dirti che andrà tutto bene e voglio dirti tanti pensieri, tante parole dolci che forse nella vita di tutti i giorni non ci sentiamo mai dire ma che è giusto sentirsi dire e che dovremmo imparare anche a dire a noi stessi per primi quindi voglio dirteli io perché mi sono state dette a mia volta e sono state come un balsamo sulle ferite quindi voglio, spero, che questo video abbia questo effetto per te è proprio fatto con il cuore ed è fatto in un momento un po' vulnerabile per me se così si può dire, è un momento in cui anche io sento tanto il bisogno di sentire queste cose le volte me stessa prima di cominciare questo video accendiamo una candela per rilassarci ancora di più ho già scelto una candela piccolina che ricorda il coro della sabbia, il colore del mare mi sa di cocco e vaniglia, spero davvero sia di tuo aggredimento vado a prendere un fiammifero tra l'altro questo fiammifero viene tipo dagli anni 80 e sono americani out of Denver da Denver comunque ce l'aveva mia suocera mi fanno veramente di far west, di cowboy mi mettono un sacco di buon umore la candela sarà appoggiata qui di fianco a me tutto il tempo anche se non la vedrai spero riuscirai a sentirne l'aroma facciamo dei bei respiri senti l'aria fresca che entra dalle narici ed esce calda dalla bocca ancora due aria fresca l'aroma si espande tutti fuori con la bocca caricata ora voglio che tu ti prenda questo momento per te voglio che tu ti prenda questo momento per la persona più importante della tua vita e devi ricordarti sei tu 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 e dobbiamo imparare a trattarci come tali sono qui per ricordarti che anche se hai avuto una brutta giornata andrà tutto bene ce la farai e voglio dirti che ti meriti che le cose vadano meglio ma non solo voglio dirti che ti meriti di essere ascoltato ascoltato ti meriti di essere capito capito ti meriti ti meriti di poter sbagliare ti meriti di poter imparare ti meriti di poter essere te stesso o te stessa al 100% ti meriti di amarti incondizionatamente ti meriti di amarti incondizionatamente e ti meriti di essere amato incondizionatamente ti meriti il mondo tutti tutti ce lo meritiamo ne sono escluso ti meriti di essere ascoltato 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 ti meriti di essere felice ti faccio due coccoli perché provo a dire delle meriti sono sicura che ci siano periodi in cui ti sembra che nulla vada bene ci sono momenti in cui sembra che nessuno riesca a capirti sembra che tutti fassano cose e che tu invece sia fermi in un punto ma non è così ognuno ha la propria strada ognuno ha il proprio percorso ognuno ha le proprie difficoltà ma la cosa secondo me è che ci aiuta tanto ad andare avanti anche nell'affrontare periodi meno belli è quello di donarci tanto amore tanta comprensione tanta compassione verso noi stessi anche nei momenti in cui magari ci piacciamo ci piacciamo di meno nei momenti in cui non siamo al 100% nei momenti in cui vorremmo essere altre cose e invece non lo siamo dobbiamo dobbiamo trattarci comunque bene e amarci e accettarci incondizionatamente anche se sbagliamo e sbagliamo e sbagliamo e tentiamo anche se una cosa la facciamo e non viene bene come avremmo voluto anche se abbiamo fatto qualcosa ce ne pentiamo perché ci meritiamo di essere sereni e felici con noi stessi quindi andrà tutto bene va tutto bene in questo momento sei qui stai facendo dei gran respiri ti stai prendendo questi dieci quindici venti minuti per te solo per te perché te lo meriti e adesso in questo momento va tutto 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 bene ti meriti tutto l'amore ti meriti tutto l'ascolto ti meriti tutta la comprensione andrà tutto 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 bene va tutto tutto bene adesso ti dirò delle frasi le dirò in prima persona e le dirò per prima me stessa in realtà perché queste cose queste affermazioni positive sono sempre in utilità dirsi e vorrei che tu te le ripetessi nella tua mente se vuoi o se non te la senti semplicemente ti concentrarsi su queste parole ok ok io mi merito in questo momento di relax io mi merito in questo momento di relax io mi merito di essere felice io mi merito di essere felice ora va tutto tutto bene voglio pensare solo al qui ed ora non esiste nient'altro va tutto 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 bene io mi stimo 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 Io mi amo Io sono amato Io sono amato Io mi merito di prendermi cura di me stesso Io sono la persona più importante della mia vita Io sono la persona più importante della mia vita Io mi merito tutta la felicità che desidero Io mi merito tutta la felicità che desidero Io mi merito tutto ciò che desidero Io mi merito tutto ciò che desidero E adesso 5 cose di cui sei grato, grato Io ti dirò le mie E poi faremo un conto alla rovescia Da 30 a 0 E tu in questo momento dovrai pensare Almeno a 5 cose per cui sei grato nella tua vita Bastano 5 piccole cose Perché sono le cose semplici A fare la differenza Ed è apprezzare queste cose Che fa la differenza Ok, comincio io Sono grata Per La tisana che ho preso oggi Stamattina Nella mia tazza preferita Una delle mie tazze preferite Sono grata Sono grata Per Per aver Sono grata Per essere riuscita Ad arrivare puntuale oggi A un appuntamento Sono grata Sono grata Di avere Una cagnolina dolce Che mi vuole bene Che mi dà tanto affetto Sono grata stasera Di andare In palestra E fare uno sport Che mi piace Che mi appassiona E di questo Sono grata Anche di Aver trovato qualcosa Che mi permetta Di sfogarmi Che mi permetta Di Di fare qualcosa Che mi fa Staccare completamente La spina Quindi sono grata A me stessa Di Essermi Essermi buttata Questa nuova Avventura Non sapendo Cosa Cosa sarebbe Successo Quindi Sono grata Di essere riuscita Da comfort zone E infine Sono grata Di Aver incontrato Nuove persone E Sono grata Di Stare Ristorando Nuove vapore Di amicizia Ok Quindi Ognuno Può essere grato Veramente Per anche Piccole cose Te ne potrei dire Altre cinque Però Mi fermo qui Perché vorrei Che adesso Fosse Il Tuo Turno E vorrei Davvero Che Ti concentrassi Sul Fatto Sul Senso Di Gratitudine E Vorrei Che riconoscessi Anche A livello Corporeo Da dove Ti viene Io ad esempio Il senso Di gratitudine Lo sento Qui a livello Del petto Del cuore Sento Calore Pienezza Ok Quindi adesso Conterò Da trenta Al zero Comincio Il conto Alla rovescia Così ti do Ampiamente Del tempo Per pensare Alle cinque cose Per cui provo Che attitudine Oggi Ok Quindi Intanto Io ti Ancarezzo Il viso Perché Te lo meriti Ok Trenta Ventinove Vento 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 Sette Vento 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 3 3 22 22 22 ventuno 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 venti venti diciannove 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 dicianotto diciannove diciannove dician sette dician sette sedici sedici quindici 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 quattordici tredici 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 di dieci 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 nove 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 otto otto sette sei cinque 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 quattro tre 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 due due uno cero u va tutto 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 bene sai come adesso va tutto bene respira profondamente ringrazio di esserti concesso questi minuti solo per te va tutto 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 bene e adesso io spero davvero che tu stia meglio dopo questo video io sto meglio che tu puoi starmi dentro tutte queste cose belle ti invito a riascoltare questo video ogni volta che ne avrai bisogno spero davvero e spero davvero possa accompagnarti e addolgirti anche delle giornate che magari non sono andate esattamente come volevamo e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio proprio si è aggiunto l'ora aggiunto l'ora a passare le luci e augurarti augurare a te augurare a te splendore una buona buonanotte 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 dulces, dulces sueños buon nuit, buon nuit, buon nuit go to not go to not vete, schaiera le canoste le canoste, le canoste buon nuit, i miei piccoli pasticcini al cocco un bozzone un abbraccio che li spera